La meravigliosa cornice del Palazzo Monti della Corte ospita grandi eventi da oltre 400 anni. Vantando di un team di collaboratori qualificati, questa fantastica dimora vi offre tutti gli elementi necessari per un ricevimento nuziale da sogno. La maestosa struttura dispone di ambienti spaziosi e curati nei minimi dettagli, adatti per diverse tipologie di eventi. Gli interni della dimora storica sono caratterizzati da rifiniture eleganti ed elementi decorativi d'epoca che contribuiscono a dare al vostro banchetto un'atmosfera molto raffinata. Nei mesi più caldi potrete approfittare del grande parco e del vasto giardino all'inglese, di fronte al corpo centrale della villa per allestire romantici banchetti all'aperto circondati da uno scenario di suggestiva bellezza. In base ai vostri gusti ed esigenze, inoltre, i gestori sapranno suggerirvi i migliori servizi catering e bancheting con cui collaborano da anni. Sarete certi di organizzare il vostro giorno di nozze in ogni dettaglio, assicurandovi un'assistenza costante dai preparativi fino alla fine del vostro grande evento nuziale.